Siamo con Mohamed Koli nella settimana di preparazione che porta l'amichevole di domenica contro il Como. Ti chiedo subito che sensazioni ci sono. È un amichevole, però sarà un avversario che rincontrerete anche in campionato quest'anno. Diciamo che affrontiamo una squadra che sta costruendo un ottimo organico e quindi affrontiamo una squadra di pari categoria e servirà sicuramente per fare un buon test. Stiamo lavorando per migliorarci in questo momento del campionato che comunque è in fase di costruzione. Abbiamo tanto da crescere, però questi test possono servire per avere indicazioni sul nostro valore di crescita, sul valore della squadra. Parlando di Como, come è in fase di costruzione, a che punto è invece la Pro Vercelli? Diversi innesti sono arrivati quest'anno, però di fatto il nucleo della squadra è lo stesso dell'anno scorso. Questo può essere un valore aggiunto all'inizio di una stagione? No, diciamo che è giusto mantenere un nucleo che sappia quello che sono le caratteristiche di un ambiente, di una società e noi abbiamo questa caratteristica. In più abbiamo nuovi innesti che hanno voglia di fare, però sicuramente c'è ancora da trovare l'ammalgama giusta per potersi capire e crescere, essere pronti, farsi trovare pronti all'inizio del campionato. Ci vorrà qualcosa in più per ripetersi, come quelli dell'anno scorso anno? Sì, sicuramente ci vuole qualcosa in più, visto che l'anno scorso alla fine ci siamo salvati all'ultima giornata. Quest'anno dovremmo essere più bravi nell'essere costanti nell'arco del campionato e magari sperando di partire come siamo partiti all'inizio dell'anno scorso e lavorare sempre duro e mantenere comunque quella che è la filosofia e la mentalità vincente. Quello lo si può creare giorno per giorno in allenamento e siamo qui apposta, stiamo lavorando, c'è ancora parecchio da fare, però le condizioni ci sono, la voglia c'è e basta mettersi a disposizione che il resto verrà.